Torneo Coppa Balcone delle Marche con la seconda giornata Liverpool contro PSG, il Liverpool controllato da Alessandro Crescimbeni, il PSG di Nicola Chiaraberta con Nicola Chiaraberta che viene dalla vittoria per 3-2 su Nicola Gambini, mentre Alessandro Crescimbeni ha perso 4-1 contro Diego Zannini Possesso di Liverpool con Alessandro Nardold, Keita, maia nera per la squadra inglese, Alessandro Nardold verso Salah, Salah sulla fascia, ancora Salah, deve tornare indietro, ancora Salah verso Keita Keita al limite dell'aria, prova il cross verso Mané, non riesce a colpire Pere, rimessa dal fondo Si riparte da Taylor Navas, che sbaglia però, allora può ripartire Liverpool verso Sané, Sané, Mané, Mané, il tiro di Mané, la parata di Navas Calcio d'angolo Palla rimane su Mané, Mané in aria, va da Alessandro Nardold, ancora Alessandro Nardold, prova a rientrare Navas controlla, Navas verso Icardi, però non arriva, riparte Liverpool, Trent, Alessandro Nardold Sbaglia, allora è piacere per Tekon, per Ratti, verso Icardi, Icardi, Icardi per Fabinho, Fabinho ancora per Icardi Icardi per Mbappé, Mbappé, il tiro di Mbappé Alisson, Devian, calcio d'angolo Batte Keita Ci arriva la difesa del Liverpool Riparte il Liverpool con Mané Mané, Mané, contropiede di Mané Aspetta il passaggio verso Firmino, troppo Corto, e allora riparte il PSG che non riesce però a controllare bene Palla verso Firmino, fa buona guardia la difesa Bernat, Neymar, Neymar per Verratti Verratti subito verso Mbappé, che ha spazio libero Mbappé, Mbappé, in entra in aria, ancora Mbappé, il tiro Alisson esce bene Buon inizio da parte delle due squadre Salah Salah in profondità verso Mané Ci arriva un difensore Mané Firmino Firmino verso Keita Keita per Alexander Harland, ancora per Keita Keita prova in profondità verso Mané Nulla di fatto, poi prova ancora il Liverpool a affondare Rimessa dal fondo Più il Liverpool In questo Primo frangente del primo tempo PSG ancora a contratto, anche se ha avuto una grande occasione con Mbappé Che adesso riesce a conquistare palla Subito in profondità verso Neymar Neymar in aria Vediamo quello che fa Neymar, il tiro Deviato dalla difesa Si riparte da Gueye Verso Verratti Verratti il tiro Allisson Bellissima parata, calcio d'angolo Resiste il Liverpool Adesso il PSG si fa vedere Cross verso Di Maria Ancora la difesa providenziale Verratti Verratti per Tiago Silva Capitano Verso Icardi Cardi per Di Maria Di Maria si smarca bene il tiro In bocca ad Allisson 22 minuti, ancora 0-0 Una bella partita Equilibrata da una parte e dall'altra Firmino Firmino per Salah 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 Ancora Salah sulla fascia Prova a fare tutto da solo Silva Riesce a intervenire Bernat Qui ancora Firmino riesce a recuperare Verso Henderson Henderson Non riesce a servire Manet In profondità Allora può ripartire il PSG Gueye Supera la metà campo Verso Icardi Icardi vede Neymar Neymar di prima Bernabappé Bappé torna da Neymar Il tiro da Neymar Alisson Blocca il pallone Salah riesce a A metterla Verso il centro Ad evitare la rimessa laterale Ma riparte il PSG Alisson Verso Mbappé Mbappé in aria Si gira Il PSG Basta in vantaggio Era qualche minuto Che il PSG Stava intensificando Gli attacchi E Kylian Mbappé Segna il gol del 1-0 Per Nicola Chiaraverta Che in questo momento Sarebbe qualificato Ai quarti di finale Si riparte dunque Con il gol Di Mbappé Al 29esimo 1-0 Per il PSG Liverpool Che adesso Prova a ripartire Con Van Dijk Verso Robertson Robertson Per Manet Che non riesce Però a compistare il pallone Allora riparte il PSG Gueye Per Verratti Verratti ancora per Mbappé Mbappé per Icardi Tutto di prima Icardi Ragiona Di tacco per Verratti Verratti verso Neymar Neymar si accentra Per il tiro 2-0 Azione fulminia Del PSG Che ha acceso la luce E si è portata Nel doppio vantaggio Non ti fonda adesso Per il Liverpool Che comunque Ha cominciato molto bene Questa partita PSG Ora Con un piede Ai quarti di finale Anche se la partita È ancora lunga 2-0 33esimo Due gol in 4 minuti Possesso del Liverpool Che da Fabinho Fabinho Van Dijk Van Dijk per Robertson Robertson verso Wijnaldum Sbaglia Wijnaldum Allora riparte il PSG Gueye Mbappé Mbappé verso Icardi Icardi torna indietro Vede Neymar Neymar Solo All'ultimo Virgil Van Dijk Dimostra Perché ha ricevuto La nomination Per il pallone d'oro Salah Salah sulla fascia Prova per Keita Ricompista Vernat Silva Gueye Verratti Verso Mbappé Mbappé Da solo Mbappé Contro 3 difensori Quindi deve tornare indietro Vede Icardi Cardi di prima per Neymar Neymar verso Verratti Riesce Il Liverpool A conquistare la sfera Wijnaldum Mané Nulla di fatto Riparte il PSG Neymar Si alza il pallone Prova il tiro Finisce però alto Bello questo gioco Da parte del PSG Quando siamo al 41esimo Francesi in vantaggio Per 2 a 0 Gueye Riparte il PSG Verso Icardi Icardi di prima Per Neymar Neymar torna da Verratti Verratti per Icardi Difesa solida Questa volta Del Liverpool Salah Sbaglia il passaggio Allora riparte Il PSG Icardi Verso Neymar Interviene Fabinho Ma ancora il PSG Qui c'è un fallo Da parte dei paricini Si riparte con il calcio di punizione In favore Della squadra in maia nera Del Liverpool Icardi Di Maria In profondità Vede Meunier Meunier Sulla fascia Ancora Meunier Prova il cross Riconquista il pallone Prova il tiro Il Liverpool Rimprovviso Fuori Si riparte Possesso del PSG Silva Silva per Verratti Verratti verso Icardi Icardi per Mbappé Mbappé Bel gioco Non l'ha di fatto Allora riparte il PSG Non c'è tempo Finisce il primo tempo 2-0 In favore Dei paricini Contro il Liverpool Parte con il secondo tempo Di questa partita Tra Liverpool E PSG Con il PSG Maglia rossa E Liverpool In manna nera I paricini In vantaggio di 2-0 Ancora in avanti Verso Di Maria Il tiro Parata di Allison Allison La passa addirittura Neymar Riccardi Gol 3-0 Ingenità di Allison Che aveva provato Verso Slade Chamberlain Ma ha trovato Neymar Che ha subito servito Icardi 3-0 Del PSG Le porte Dei quarti Finali Si aprono Sempre di più Per Nicola Chiaraverta Mentre Alessandro Cercin beni Con questo Risultato Saluterebbe Anticipatamente La competizione Ma nè Dall'altra parte La reazione del Liverpool Verso Firmino Nulla di fatto Allora ribarte il PSG Con Di Maria Sulla fascia destra Di Maria Prova ad entrare Robertson Sbaglia Allora Di Maria In profondità Di Maria Ancora Di Maria Torna indietro Gueye Verratti Verratti per Mbappé Mbappé verso Neymar Il tiro La parata Di Allison Allison per Robertson Robertson Tornata Van Dijk Van Dijk Verso Alexander Arnold Trova Salah Salah verso Henderson Henderson per Salah Si è fuori gioco 54esimo 54esimo Risultato ancora Di 3 a 0 Per il PSG Qui il fuori gioco Di Salah Netto Può ripartire PSG In avanti Con Mbappé Mbappé verso Icardi In contropiede Icardi Riesce però Robertson A spazzare A spazzare Firmino Verso Salah Salah sulla fascia Ancora Salah 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 verso Henderson Henderson limite dell'aria Il passaggio per Salah Salah di prima Verso Firmino Il controllo Il tiro La riapre E la riapre Il Liverpool 1 a 3 E ora Ha 31 minuti Scusate Per cercare La rimonta Firmino Al 59esimo Ed è 3 a 1 Riparte il Liverpool Sbaglia però Allora Icardi Riparte Verso Mbappé Mbappé per Di Maria Di Maria Entra in aria Passaggio verso Icardi Icardi Il tiro 4 a 1 Subito il PSG Mette la parola Fine Ad ogni tentativo Di rimonta Del Liverpool 4 a 1 Rivediamolo Il gol Di Icardi Allison Non ci ha potuto Fare niente 4 a 1 Riparte Ora il Liverpool Che Ha Una montagna Da scalare Robertson Vai Allora riparte Il PSG Con Gueye Gueye per Cavani Cavani per Gueye Gueye per Mbappé Mbappé In aria La finta Il tiro Allison E poi Spazza in calcio D'angolo Un difensore Del Liverpool Neymar Dal corner Verso un compagno Però non riesce A intervenire Ratzler Verso un Bappé Robertson Riesce a riconquistare Palla Allora va per Mané Mané 1 contro 3 Mané Prova sulla fascia Resiste Gueye Ancora Balla Mané Mané con calma Verso Wijnaldum Wijnaldum Sbaglia il passaggio Allora riparte il PSG Neymar Per Bappé Ancora per Neymar Neymar Per Bappé 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 il tiro 5 a 1 Nicola Chiaraverta Non perdona E mette dentro Il quinto gol Della gara Difesa scoperta Bappé non ha perdonato 5 a 1 68 Ancora più dura Per il Liverpool Mentre Nicola Chiaraverta Vede i quarti di finale E si giocherà Probabilmente Il primo posto Con Diego Zannini Che ha vinto Ricordiamolo 4 a 2 Con Nicola Gambini Shaqiri Verso Firmino Che però Non arriva C'è Marchignos Per Tiago Silva Tiago Silva Per Gueye Meunier Meunier per Di Maria Di Maria per Neymar Neymar Tollene indietro Verso Meunier Conquista Il pallone Wijnaldum Verso Robertson Robertson Osley Chamberlain Per Alexander Arnold In profondità Versa là Fuori gioco Si riparte Con Il possesso Del PSI Draxler Gueye Gueye per Mbappé Mbappé Il tiro di Mbappé Deviato Ci arriva Allison 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 In profondità Per Giocatore Rimessa laterale Shaqiri Robertson Robertson Per Wijnaldum Firmino Firmino Verso Shaqiri Non ci arriva Allora può ripartire Il PSG Mbappé 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 per Cavani Cavani torna indietro Vede Mbappé Mbappé a campo libero Mbappé Mbappé in aria Il tiro Sono sei E c'è il gol Palla in rete Rivediamo Mbappé Che punisce Allison Per la sesta volta Ormai è fatta E scritta Per il PSG Il passaggio Il turno Di questa Coppa Balcone della Marche Liverpool Che Comunque Continua a lottare Shaqiri Per Firmino Ricupera il PSG Verso Gueye Mbappé Da solo Mbappé Ancora Mbappé Passaggio per Mbappé Gueye per Mbappé Si ritrova da solo Avanti il portiere Allison questa volta Ci arriva E allora Ancora Cavani Limite dell'aria Cavani Aspetta Riesce con una finta E il palo E poi Cavani ancora 7 a 1 Risultato Che non lascia Spazio Alla emecezione Dominio Del secondo tempo Da parte del PSG Alessandro Crescimbeni Ha abbandonato E quindi verrà penalizzato Tutto un punto Nicola passa Ai quarti di finale Alla emecezione Alla emecezione Alla emecezione Alla emecezione Alla emecezione